Salve a tutti ragazzi, oggi vedremo una strategia che mi ha dato veramente molte soddisfazioni. Si tratta della strategia over 1,5 gol secondo tempo. Allora, per quanto riguarda la selezione dei match, dovremo individuare dei match in cui le squadre pareggiano alla fine del primo tempo con il punteggio di 0-0 e le squadre hanno statisticamente alte percentuali di over 1,5 gol. Inoltre le statistiche live segnalano un match aperto e l'entrata si effettuerà durante l'intervallo o nei primi minuti del secondo tempo ad una quota specifica che vi illustrerò successivamente in questo video. Andiamo adesso a vedere diversi esempi di trading live. Due partite sono state giocate il 18 gennaio 2020. Si tratta di Düsseldorf contro Brema della Bundesliga e Real Madrid contro Siviglia della Liga. Mentre l'ultima partita sarà Barcellona contro Granada della Liga che è stata giocata il 19 gennaio 2020. Ci troviamo a Düsseldorf. La squadra di casa sta pareggiando con il Düsseldorf e Brema con il punteggio di 0-0 alla fine del primo tempo. Si sono avuti due tiri in porta per parte, un po' stesso palla quasi uguale. Inoltre una statistica interessante è che entrambe le squadre hanno segnato uno più gol nelle precedenti nove partite. Inoltre negli scontri diretti si sono avuti sempre due o più gol quando il Düsseldorf ha giocato in casa. Quindi per questi motivi ho deciso di puntare sull'1,5 gol durante l'intervallo. Quindi andrò a fare una puntata sul mercato più 1,5 gol e lo effettuerò a quota 2. Quindi adesso andiamo a inserire la puntata, scegliamo quota 2 e metterò una puntata di 7 euro. Vediamo se il sistema abbinerà la nostra puntata. Questa quota di 2 ci permette di avere sostanzialmente un rischio rendimento pari a 1, cioè rischiamo X per vincere X. Quindi questo ci permette anche di avere un win rate abbastanza basso per essere in profitto. Quindi basta avere un win rate che supera il 50% per essere in profitto con questa strategia. Come vediamo le statistiche, il Düsseldorf in casa ha realizzato praticamente tutti i over a 1,5 gol. E quindi questa è una statistica che ci dà un'ulteriore conferma di entrata. E la stessa cosa si può dire per il Brema fuori casa. Praticamente si sono avuti tantissimi over 1,5 quando il Brema ha giocato fuori casa. Quindi questa è sicuramente una conferma, un indicatore di entrata in questa strategia. Quindi ora la puntata è stata abbinata e ci riaggiorniamo dopo. Ecco adesso siamo al 66esimo e il Brema ha segnato, quindi come potete vedere siamo in profitto di 1 euro su 7 euro della responsabilità. Quindi circa un po' meno del 20%. Come potete vedere adesso chiuderò questo trade, proprio perché essendo il gol arrivato molto tardi, è meglio chiudere e andare in profit. In quanto questa strategia potete anche restare fino alla fine, ma vi consiglio di restare quando il gol arriva tra il cinquantesimo e il sessantesimo. Altrimenti solitamente è meglio crearsi una free bet o comunque fare cash out. E adesso chiuderò quindi un cash out di 1,11 euro. Quindi siamo attorno al 20% di profitto e siamo stati circa 22 minuti nel mercato dall'inizio del secondo tempo. Ecco che la quota è stata abbinata e quindi siamo usciti dal mercato con il profit. E quindi adesso non effettuerò ulteriori operazioni perché appunto come dicevo prima il gol è arrivato tardi e quindi preferisco tenermi in questo profit e passare diciamo a un'altra partita. Allora il match è finito e il Werder Brema è riuscito a vincere sul campo del Düsseldorf con il punteggio di 0-1. Alla fine c'è stata anche un'espulsione oltre al novantesimo per il Werder Brema ma comunque il Düsseldorf ha spinto ma non è riuscito a pareggiare. Allora siamo a Madrid, al Bernabeu, il Real sta pareggiando con il Sevilla per 0-0. Ora vediamo una statistica interessante delle ultime due partite in casa. Il Real Madrid contro l'Atlatico Madrid in Coppa del Re e il Real Madrid contro l'Atlatico Sevilla. Le due ultime partite sono finite 0-0 e invece a destra abbiamo le statistiche della partita in corso contro il Sevilla alla fine del primo tempo. Come potete vedere la partita è abbastanza equilibrata. Ci sono stati due tiri in porta globali, uno per il Real Madrid e uno per il Sevilla. Però la statistica storica del Real Madrid con due partite consecutive finite per 0-0 in casa mi fanno propendere per l'over 1,5. Cioè io penso che ci siano uno o due gol in questo match. Allora quindi adesso vado su Betfair e come potete vedere la quota è a 2,18 dell'over 1,5 gol. Quindi metto la mia bettata e quindi ho puntato 7 euro sull'over 1,5 gol. Aspettiamo che una puntata venga inserita nel sistema. Ecco è stata anche abbinata e adesso c'è la sospensione ma non c'è stato gol, non c'è stato nulla. Sto vedendo la partita. Vediamo cosa è successo. No, vedete che non ci sono stati gol. Ci riaggiorniamo dopo. Ecco siamo al 56esimo e il Real Madrid ha segnato con Casemiro. Quindi si è portato in vantaggio a 11 minuti dall'inizio del secondo tempo. Vedete anche Diretta Hit riporta il gol di Casemiro. Quindi ora quello che farò... Potete vedere che adesso c'è un profit che si attessa tra il 40 e il 50% della responsabilità. Quello che andrò a fare è praticamente lo scratch. Cioè se la partita finisce meno di 1,5 gol non vincerò, non perderò nulla. Mentre se finisce diciamo 1,5 over 1,5 avrò circa il 50% in più di profitto rispetto a quello del cash out che ho in questo momento. Questo perché mi aspetto altri gol in questa partita perché il ritmo è molto più elevato rispetto al primo tempo. La partita è finita e il Real Madrid ha battuto il Siviglia. Dopo il gol di Casemiro c'è stato il pareggio di Luc de Jong al 64esimo e poi al 69esimo c'è stato il definitivo 2-1 del Real Madrid che è così riuscito a interrompere la serie di 0-0 in casa. Quindi sono riuscito a prendere l'over 1,5 e quindi è stata un'operazione totalmente in positivo. Siamo al Bernabeu, il Barcellona alla fine del primo tempo sta pareggiando con il Granada. Io sto puntando 10 aro sull'over 1,5 gol in quanto il Barcellona ha dominato il primo tempo e mi aspetto un gol nella prima metà del secondo tempo. Ecco perché ho fatto questa puntata a quota 2. Come potete vedere a sua fast score il Barcellona ha fatto 10 tiri di cui 2 in porta e ha dominato anche a livello di possesso palla. Qui vediamo che la puntata ancora non è stata abbinata perché le quote sono ancora sotto al 2. Ci riaggiorniamo comunque dopo. Ecco, adesso la puntata è stata abbinata. Abbiamo già un piccolo gain che però si trasformerà in loss se il Barcellona non dovesse segnare. Adesso siamo al 75esimo e il Barcellona ha finalmente segnato. E come potete vedere abbiamo un gain. Aspettiamo che le quote si abbinino. Ecco, siamo a 1,87 quindi quasi il 18% di gain sullo stake. Aspettiamo. In questa partita tendenzialmente uscirò fondamentalmente con un cashout perché non mi aspetto altri gol nella partita perché ormai mancano 15 minuti. Il Barcellona ha faticato molto a segnare e il Granada ha perso un uomo che è stato espulso pochi minuti prima del vantaggio del Barcellona. Però vedendo la partita non credo che il Barcellona, avendo cambiato anche allenatore possa segnare un altro gol. Adesso sto tentando di fare il cashout Ecco, sto tentando di farlo Ecco, quindi siamo usciti con il 13% di gain totali Ci è bastato quindi un solo gol e siamo stati nel mercato circa 20 minuti Come potete vedere questa tecnica permette comunque di stare nel mercato in momenti fondamentali del match con bassa responsabilità con un ottimo rapporto rischio-rendimento Niente, adesso il Barcellona sta ancora attaccando ma non credo che ci sarà un altro gol Allora, la partita è finita 1-0 il Barcellona ha avuto altre occasioni però non è riuscita diciamo a raddoppiare Quindi Lionel Messi mi ha permesso di andare in profit con l'over 1,5 gol pur con un solo gol segnato Allora, per concludere questa strategia ha un ottimo rapporto rischio-rendimento e ad un alto win rate proprio perché la maggior parte dei gol vengono segnati nel secondo tempo e questa strategia funziona molto bene nelle partite in cui c'è una squadra che gioca in casa e che non è riuscita ad andare in vantaggio nel primo tempo come negli esempi che vi ho mostrato per quanto riguarda il Real Madrid e il Barcellona ad esempio è ovvio che anche la selezione match è fondamentale e così come le statistiche storiche e negli altri video tratterò anche la possibilità di avere una copertura a questa strategia nel caso in cui il gol non avvenga entro i 25 minuti dall'inizio del secondo tempo e quindi fondamentalmente questa è solo la prima parte di una serie di video che farò su questa strategia che ritengo sicuramente una delle migliori per oggi è tutto e vi ringrazio per l'attenzione se vi piace il video mettete un like se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e vi auguro il meglio per il vostro trading e vi ringrazio per l'attenzione Grazie.